Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Apriamo con la FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del turbone. Un chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Sul raccordo Siana-Firenze, scambio di carreggiata per lavori, tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Per quanto riguarda la mobilità cittadina a Firenze, sono in corso lavori in via Faenza fino al 10 aprile di vieto di transito nel tratto tra via Nazionale e via Cennini. Prima di salutarci passiamo al traffico aereo, il volo Firenze-Zurigo di Swiss Air in partenza alle 14.50 è stato cancellato. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Per quanto riguarda la mobilità città metropolitana di Firenze